Per la rubrica quale futuro dopo il diploma intervistiamo Ilenia Di Meo, un'altra ragazza che ha partecipato a Cento alla Maturità, quindi ha appena finito il suo corso di studi, l'Istituto Alberghiero Brindisi di Comacchio degli Estensi in provincia di Ferrara. Allora andiamo a salutare, ciao Ilenia. Buongiorno a tutti, sono Elena Di Meo dell'Istituto Remobrindisi. Ciao Ilenia, intanto ti faccio i complimenti per la tua maturità, per il tuo voto e inizierei subito con te, con le domande. Ti chiedo intanto come festeggerai questo diploma? Hai già progettato qualcosa per quest'estate? Partirai e andrai in vacanza? Cosa farai? Quest'estate andrò in vacanza con la mia famiglia in Campania, perché ho la famiglia lì. e ho deciso di festeggiarla così, visto che è l'ultima estate che mi posso godere. Andrò a trovare la mia famiglia e cercherò di godermi al massimo quest'estate, magari andando a visitare la costiera e le varie città, cosa che ho già fatto negli anni passati. È un posto che mi piace molto, sono molto legata a questa regione e consiglio a tutti, almeno una volta, di andare a visitarla. Hai detto che è l'ultima estate che ti potrai godere, perché già hai deciso cosa farai dopo l'estate? Sì, io già precedentemente mi ero un po' progettata alcune cose e inizialmente per settembre ho deciso di iniziare a cercare lavoro, soprattutto perché grazie alla mia scuola sarei molto facilitata sia all'interno di bar o di ristoranti, proprio perché io ho conseguito il diploma in un istituto d'alberghiero, però successivamente avevo intenzione di specializzarmi in qualcosa inerente al mio indirizzo, che può ad esempio essere la miscelazione, quindi riferito ai drink come bar lady, o ad esempio anche per la caffetteria, che sembra una cosa molto banale o semplice, ma in realtà ci sono molti particolari, molte sfaccettature interessanti della caffetteria, come ad esempio il latte art, non so se avete presente, i fattidici disegnini sui cappuccini, ci sono molti corsi di specializzazione interessantissimi. Ecco, quindi mi sembra che le idee siano abbastanza chiare, ma tu immaginandoti nel futuro, come ti vedi? Cosa vedi nel tuo futuro? Io ho sempre cercato di puntare in alto, per non negativizzare un po' quello che potrebbe essere il mio futuro, quindi ho sempre cercato di immaginarmi un futuro molto prosperoso, magari a gestire qualche catena di ristoranti, non so, però io preferisco sognare anziché subito dettare la spugna e dire che non ce la potrei fare. Senti, invece la carriera di insegnante mi sembra che non l'hai mai presa in considerazione, no? Forse quando ero più piccola, perché mi hanno sempre detto che avevo un carattere molto forte, a me è sempre piaciuto andare a scuola, per fortuna non ho mai avuto, per mia fortuna non ho mai avuto problemi a scuola, forse sempre sul fatto caratteriale, e quindi quando ero più piccola mi sono un po' immaginata magari come insegnante. A me è sempre piaciuto aiutare i miei compagni, soprattutto quando avevano difficoltà con i compiti, e infatti proprio dal terzo anno in poi, quando ho scelto l'indirizzo, una cosa che mi piaceva tanto era magari fare degli schemi per i miei compagni, quindi questo sì, qualche volta ci ho pensato perché mi ci sono sempre ritrovata in queste cose. Senti, a proposito dei tuoi compagni, invece ti chiedo, tu vedi in loro le stesse idee chiare magari che hai tu, oppure vedi un po' di indecisione nel futuro, come li vedi? Alcuni miei compagni hanno le idee chiare come me, perché magari hanno scelto la mia scuola proprio con l'intento di diventare qualcuno, e di sviluppare le loro capacità nell'indirizzo che abbiamo scelto, mentre invece magari tanti ragazzi che hanno scelto l'alberghiero perché non sapevano cosa fare sono un po' più indecisi e magari non sanno ancora se andranno a lavorare o studieranno, mentre invece altri compagni hanno scelto l'alberghiero, ma so che prenderanno proprio una strada completamente diversa all'università, magari andando a studiare medicina, e so che può sembrare strano ma è così. E' questo. Senti, invece per quanto riguarda questi anni a scuola, ti chiedo, ma hai mai vissuto esperienze di cyberbullismo in prima persona, oppure anche su compagni, compagne, hai mai visto qualcosa di questo genere? Personalmente, ripeto per mia fortuna, non ho mai vissuto episodi di cyberbullismo, però so benissimo di cosa si tratta e non mi sembra che sia mai capitato a qualche mio compagno, però a scuola abbiamo fatto numerose attività dove spiegavano cosa fosse, e dove si consigliava magari tramite polizia postale di evitare questi accaduti molto spiacevoli, perché magari soprattutto in noi giovani e adolescenti che siamo un po' deboli possono veramente creare dei danni irreparabili. Hai mai sentito parlare del DDL-ZAN? Se ti sei fatta un'idea, cosa pensi di questo, e se pensi ci sia bisogno di istituire una giornata contro l'omofobia a scuola? So di cosa si parla, non ho letto nello specifico la legge che riguarda il DDL-ZAN, però so a chi si riferisce e credo che una legge di questo tipo sia veramente importante, soprattutto nel 2021, perché ho sentito parlare di numerosi episodi di omofobia e di violenze, soprattutto per la strada, e credo che le persone debbano informarsi veramente, e con informarsi intendo magari leggere degli articoli, guardare nello specifico di cosa si tratti e cosa potrebbe portare in positivo questa legge. Io credo sì che sia veramente importante istituire qualche lezione sull'omofobia, perché tanti ragazzi non sanno veramente cosa significa soffrire e non riuscire a esprimere quello che si è veramente. Tu hai mai vissuto qualche esperienza di persone che conosci, i tuoi amici che hanno subito anche questi episodi? Nello specifico casi di violenza no, per fortuna, però soprattutto all'interno delle scuole ci sono tanti casi di omofobia. Magari questi ragazzi non vengono presi di mira proprio faccia a faccia, ma comunque nei corridoi se magari qualche ragazzo è così coraggioso, cioè dico di esprimere i propri sentimenti, di far vedere quello che è realmente e di essere se stesso spesso si sentono di ragazzi che devono dare dei nomignoli oppure etichettare qualcuno in maniera veramente negativa e so che magari può sembrare stupido o banale, ma spesso anche le etichette e i nomignoli possono far sentire male un ragazzo adolescente come un ragazzo adulto. Senti, per chiudere ti faccio quest'ultima domanda. Cosa ti senti di dire ai tuoi coetanei che appunto come te hanno lasciato la scuola da poco tempo, alcuni sappiamo che hanno preso il massimo dei voti un po' come te, qualcun altro no, ognuno poi prenderà la sua strada. Tu cosa ti senti di dire per il futuro a questi ragazzi? Credo che sia importante dire che non dobbiamo mollare mai e che non dobbiamo soffermarci alle frasi del tipo che siamo una gioventù bruciata, perché soprattutto negli ultimi due anni che ho vissuto sulla mia pelle questo periodo molto difficoltoso e negativo, ho visto che noi giovani sappiamo essere veramente forti e riuscire a superare dei momenti così difficili e spesso riusciamo ad essere anche più maturi e con il sangue freddo rispetto a molte persone adulte che non ragionano sulle cose e quindi consiglio a tutti di non mollare la scuola e che sia un sogno di seguirlo, perché è molto importante. Bene, allora io ringrazio Ilenia Di Meo di Comacchio degli Estensi in provincia di Ferrara, appena maturata con il massimo dei voti, ti faccio un grande in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie Ilenia. Grazie, grazie a voi. Grazie, noi ritorniamo con altri appuntamenti con i ragazzi che hanno preso 100 alla maturità per scoprire quale sarà il loro futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti